Ragazzuoli, finalmente il giorno tanto atteso è arrivato Showcase di Arthur, re del caos Oh, visto che alcuni non lo definiscono Arthur, re del caos Semplicemente Chaos Arthur, che è il nome di Gankos Detto questo ragazzuoli, un bel like iscrivetevi Per questo video almeno 400 like entro mezzanotte Il conto su di voi ce la potete fare facilissimo Cliccate quel tasto e siete a posto E BUONA VISIONE Adesso sono e bentornati oggi su Gankos Jap Perché sì ragazzuoli, siamo qua per andare a fare lo showcase di Arthur Ma prima ancora di iniziare volevo ricordarvi subitissimo un paio di cose molto molto importanti La prima ovviamente è di seguirmi su tutti i social Trovate tutti i link in descrizione Dal mio Instagram nel canale fino a quello delle carte Tra l'altro mi è arrivata una carta molto grossa La potete recuperare su quel profilo Sempre il link in descrizione Comunque si chiama MyCardTV Oltre a questo Twitter, TikTok, Twitch live tutti i giorni Quindi insomma seguitemi E tra l'altro oggi in live faremo lo showcase di Arthur in live Quindi non mancate alle due e mezzo in live su Twitch Oltre a questo volevo ricordarvi Che martedì saremo in maratona estendibile All in su Arthur, re del caos per il global Non mancate per nessun motivo al mondo Perché sarà uno dei live pool più belle e attese Della vita di Grand Cross letteralmente E oltre a questo ci sarà Ken E oltre a questo Chiunque voglia farsi pullare da me in live Martedì per il global Mi scriva sul Discord Entro lunedì compreso Ok? Detto questo possiamo finalmente partire Con lo showcase Showcase di Arthur Andiamo subitissimo a vederlo Eccolo qua Secondo PG A2R E proprio in generale su Grand Cross Ovviamente piccola cosa Lo vedremo a 6 stelle rosse normale Sul mio account Martedì, mercoledì scusatemi Sul mio account mercoledì Lo vedremo con la risveglia Il True Awakened Ok? Quindi questo è il tutto Andiamo subitissimo a vedere al volo Proprio così Al volo voletto Le skin shoppabili Di questo Arthur E ragazzi partiamo dalla più brutta Fire West Io vorrei... Fire Fire La... La insomma... Insomma... La skin di merda Ecco, è quella qui E talmente dal West E ovviamente Ecco qua La seconda skin E anche questa fa veramente cacare In un modo incredibile Anche se mi ricordo qualcosa Ma non so cosa E poi abbiamo quella veramente bella Che si addice al re del caos Che richiama perfettamente la spada con gli stessi colori Quindi è bellissima Ed è la skin a mani base più bella Sapete come sarebbe potuta essere ancora più bella? Semplice Questa là qui La facevi anche da quest'altro lato Però è invertita Invece invece di esserci Demonica qua Angelica qui Facevi Angelica qui E demonica qua Sarebbe stata bellissima Ma un piccolo dettaglio Vabbè sti cazzi Comunque personaggio Incredibilmente bello Con questa skin Ovviamente gliela shopperemo al day one O... Anzi no al day one no Perché non c'è stata la sfida sub Ma comunque Arthur Re del caos Andiamo subitissimo A provarlo Ed eccoci qua ragazzuoli Tra l'altro questa è la sua animazione Che evoca questi portali Perché perde il controllo E evoca questi portali Con tutto il mondo del caos Con il pavimento a scacchiera Quelle cose lì Bellissimo Veramente bellissimo E leggiamo la prima Skill Skill 1 Infligge Danni flash Pari al 200% Dell'attacco a un nemico Eccola qua Danni flash Ragazzuoli Possibilità di critico Per due Danni di critico per due Inflitto ai nemici Con debuff Skill 1 Due stelle Infligge danni Flash Pari al 300% E ovviamente A un nemico Questo è Tra l'altro Animazione ragazzi Bellissima Mi ricorda tantissimo L'Excalibur di Fate Di Artoria Bellissima A presto ovviamente Danni flash Single target 500% di danno Animazione Veramente Veramente Bella Ragazzi Veramente Bella Non possiamo dire Un cazzo Veramente Incredibile Bellissima Ma anche l'altra È molto bella Richiama Ma molto Il caos Con quello Che può fare Arthur Mentre Laue Debuff Infligge danni Da Flood Che ovviamente È 0,8% Di danni aggiuntivi Per ogni percentuale Di HP Rimarenti Su se stesso Pare al 100% Dell'attacco A tutti i nemici E infligge E infligge Sicilio Dell'oscurità Per un turno Eccola qua ragazzi Allora Uno stella Molto bella L'animazione Dei ragazzi È molto caos È bellissima Davvero Tra l'altro Non so se lo vedete Ma è bellissimo Vedere che Nella spada C'è un po' Più no L'animazione Delle alette Che si muovono Bellissima Allergia A parte La due stelle Infligge Flood Aspettate Guarda Non cambia molto In realtà Infligge Flood Però danni 150% Ok E invece Qua è scritto male C'è scritto sempre 100% Ok Sempre però Sicilio Dell'oscurità Per un turno Ok Però infligge 150% Nella wiki C'è scritto 100% Quindi è fatto male È scritto male Già qua i danni Aumentano Poi abbiamo Ragazzuoli La tre stelle Che infligge Il sicilio Per due turni E infligge 250% Awe Molto bella Ragazzi Ma l'unica cosa Che un po' Mi triggera È che Si è pensato Su un grand cross Guardate il modello Lui parla Ma la bocca è chiusa Guardate Un po' Un po' Mi triggera come roba Tiriamo al volo Una bellissima tre stelle Per i meme Per vedere i danni Con il demà Fino sopra Ragazzi In teoria Questo danno Questo personaggio Fa veramente danni Incredibili Però non vi ho aspettato Meldimon King Ve lo dico Ve lo dico subito Purtroppo Abbiamo La ult Ragazzuoli Che si chiama Letteralmente Definitivo Ok Bel nome Definitivo E ce la andiamo Subitissimo a leggere Ragazzuoli Applica potere del caos Tutti gli alleati Per i tre turni Infligge danni Saver Pari al 500% All'uno Dell'attacco A tutti i nemici E applica Un richiamo del caos A se stesso Se stai Partecipando A una battaglia E sei sotto L'effetto del caos Quello di poco fa Il danno inflitto Sarà aumentato Del 40% E il danno subito Sarà ridotto Del 30% Questo all'uno Esattamente come Ce l'abbiamo noi Ed infine Ecco qua la sua ulti Piccola parentesi Sulla ulti Si poteva fare Infinitamente meglio Fino a questa parte Ci stava anche Bastava che Facessi questa roba qui No? Tutti addosso E poi una bella Spadata a tagliare in due No? Questa specie di Di ammasso di roba Sarebbe stato fighissimo Con questa animazione qui Immaginatevi Con questa animazione No? C'era quel coso Di strutture E lo tagliava in due E uccideva tutto Sarebbe stato fighissimo Esplodeva Sarebbe stato incredibile Vabbè Peccato Come al solito Non si sono sprecati Molto Sulla maggior parte Dei personaggi Leggiamoci a volo La passiva Ragazzuoli Eccola qua Abbiamo la passiva Che dice Recaos Tra l'altro Quindi nella passiva Lo citano il fatto Del Recaos LOL Comunque Però di alleato umano Che partecipa alla battaglia Aumenta le statistiche Di base Degli alleati umani Del 5% Ogni volta che L'indicatore Di movimento speciale Quindi la special Il gauge Di un alleato Aumentano di 1 A causa dell'effetto Di una skill Del movimento Di un'abilità O dell'aumento di grado Applica un richiamo Del caos All'unità Quando Richiamo del caos Ha subito lo stack massimo Che mi sbaglio è 4 Se non mi sbaglio All'inizio del turno Degli alleati Rimuove tutti I accumuli Di richiamo del caos E applica Dominazione del caos All'unità Per due turni Dominazione del caos Tessualmente È Provoca i nemici HP Quindi c'ha il taunt HP massimi Più il 30% Rimuove due debuff Applicate Alla unit Quando usi un'abilità Infliggi danni extra Pari al 25% Degli HP massimi All'unità Quindi Questo ragazzuone È il nostro Arthur Re del caos E detto questo Possiamo andare subitissimo A provare In PvP Primissima partita di giornata Siamo con Ban Arthur Yuri E Zeldris Dietro E ragazzuoli L'inizio È il medesimo In realtà Vorrei un attimino Vedere se riusciamo A shottarlo Oddio raga In teoria quel mirado Dovrebbe poter andare giù Ricordo Tra l'altro skin Con sova cut Vabbè Allora boys Io direi di provare Subitissimo A buttarlo giù Tra l'altro Che cazzo di team sia Non lo so Due stelle turno 1 Vediamo un po' Cosa lascia fare Arthur Diciamo se è anche Paragonabile ad altri 78.000 Allora ricordiamo Che è uno showcase Ok Quindi voglio un attimino Testare anche Quello No Diciamo Testiamo anche A paragone Con un ipotetico Escanor Cioè Avrebbe senso Togliere Arthur Per Escanor Vediamo un po' I danni turno 1 Questi sono un po' I danni turno 1 Con una due stelle Raga Direi che sono bassini Insomma Escanor e le R Prende molto di più Però comunque si parla di Arthur Si deve boostare È un personaggio particolare Va sugli HP Insomma È un personaggio un po' particolare Credo che la comp migliore Attualmente Sia questa Per quanto riguarda il team Per Arthur Attualmente Credo sia il miglior team Poi ovviamente lo riproveremo Raga con il mio account principale Qua questa è senza skin all'uno Insomma Questa è uguale Anche sul mio quella Però comunque Lo riproveremo a tempo debito In un team sensato In un account Molto più grosso Insomma Quindi Andiamo subito Bellissimo Con questa OE Sono molto Cluso Surtroppo bellissimo L'effetto del caos Nero e bianco Bellissimi portali in terra Clamorosi Veramente molto belli E Facciamo così Vediamo un pochettino Raga Vediamo un po' Se lascia fare Arthur Potremmo caricarci le ultime Ok Bei danni Mi carbano Bei danni Morto di Monking Bei danni Raga Bei danni Per essere Una OE Uno stella Turno 2 300.000 In un gear Senza skin Devo dire Tanta roba come danni Cioè Non sono Cioè Allora Mel di Monking Con Il Il buff Il buff giallo Lì Terra e paraviso E 8.000 volte più forte Però Non è per niente schifoso Anzi Anzi Quindi Concludiamo in questo modo Raga Devo essere onesto Tanta robetta Guardate i danni Non sono mica pochi Cioè Raga Sono tantini Poi non crit Senza skin Cioè Raga Buono davvero Pensavo decisamente peggio Team umani con Arthur Contro team umani con Arthur Abbiamo semplicemente Un'altra versione Più DPS Con il posto di Yuri Escanor Quindi andiamo subitissimo E vediamo Cosa riusciamo a fare Cambiamo un attimino Start Facciamo questo Raga Vediamo un attimino Effettivamente Cosa possiamo fare Che è che Atarmielo Palesemente Arthur Vero Figurati No C'è la Ban Atarmielo Vediamo se Riusciamo a shotarlo Turno 1 Raga Ripeto Sono tutti i test Questi Vediamo anche i danni Vedete Questo qua Turno 1 Debuff Non fa niente In confronto a quello Che fa di turno 2 Cioè è abbastanza scontato Però Sono tutti i test Bisogna un attimino Testare E vedere un attimino Tra l'altro Ecco fa un test Arthur Turno 1 Muore tranquillamente Ecco fa un test Tra l'altro Però si c'è anche da dire Tra l'altro 8 volte l'ho detto Ma comunque C'è anche da dire Che altri personaggi Con due nove del genere E due di Banner Non sarebbero morti Lui si Non lo so Raga Allora Me l'hanno detto Non ti aspettare Chissà cosa Secondo me Raga Poi dopo ne parleremo A fine video Di un argomento importante Per quanto riguarda Gli anniversari global Ma comunque Andiamo subitissimo Così Andiamo Per testare un po' Così Ma in realtà Potremmo fare proprio così Guarda 1 2 E 3 Vediamo un po' Anche di single target Quanto può fare Raga Già i danni È stato un attimino salendo Sono pochi rispetto a prima Ma noi abbiamo pure Il debuff grosso Vediamo single target Quanto e cosa può fare 49.000 Ok Vedete che gioca tutto Su questi Debuff Che ha sopra Quando ne ha 4 In teoria si attiva Quello grosso In teoria In teoria L'animazione Dei portali in terra Comunque ragazzi È incredibile E il team A mio avviso Poco da fare È questo Quello ottimale Perché comunque C'è anche Yuri Che te la fa tancare Ti fa resistere Ancora di più Quindi diciamo Che a mio avviso Questo per ora È il miglior team Che si possa avere Con Arthur Andiamo in questo modo Tiriamo la single target E poi spostiamo un po' Di caldo di Yuri Perché danno solo Che fastidio Ok Andiamo un po' Ed ecco qua Infatti Danni Questo è Arthur Tra l'altro Il suo Buff Questo è Arthur Funziona così Letteralmente Ultimissima Vipi di giornata Contro team Demoni Ragazzuoli Eccoci qua Allora Possiamo quasi Già tirare Le conclusioni Di questo Di questo video Tra l'altro Iniziamo in questo modo La due serie Ce la tiriamo Per il tour 2 A mani basse Possiamo già Tirare le conclusioni Stavo dicendo Tra l'altro Vabbè Non si boosterà Dopo Perché è Illusione Cioè Arthur Cosa ne penso Di questo Arthur Allora Partiamo da un presupposto È forte È forte Perché è forte È indubbiamente forte Ah tra l'altro Si si è boostato Ok Ho visto male Cioè si boosta Il prossimo turno È un personaggio Molto forte Ciò non toglie Che però Non è Un Demon King Cioè Ma il Demon King È stato molto più impattante Molto più Stravolge il team Ok Molto più Meta Breaker Anche se Per definizione Non lo è nemmeno Il Demon King Però tra i due È una spanna sopra Ok Il problema di Arthur Così come tutti i fest Degli anniversari global Non sono mai Broken Alla nascita E questo è il problema vero Nessun fest global È mai uscito E ha detto Ok Ora Brecco il meta A parte The One Che era Vabbè Non era una novità Invece gli altri Era una novità Viene e propria Ok Tanto andiamo di full Arthur C'è un delay incredibile Nelle PvP oggi Ehm Due stelle baffata Ed è questo Un po' Il problema Di questo personaggio Eventualmente Il team Il team ci mette Il team ci mette il suo A non avere Una vera e propria forma Il personaggio Non è così tanto Impattante Perché come il mile Al temp Come altri Non sono stati Metabreaker Dalla nascita E quindi Questi sono i difetti Di questo personaggio E tirando E tirando le conclusioni Ragazzi Per Arthur Del caos A mio avviso È molto forte Sicuramente Si becca Tra l'altro Penso la bella CP più alta Del gioco Perché ha tipo 77.000 Dopo del genere Con tutto maxato Ovviamente Full risveglio Eccetera È un personaggio Molto forte Però il problema È sempre uno Non è un DPS puro È quasi più un tank Che un DPS Anche se poi Non è nemmeno un tank È un personaggio Che scala sui HP È un personaggio Che è meno impattante Sicuramente in ungear E poi sul mio account Lo proveremo in gear Ovviamente Oppure anche oggi Live lo vedremo In gear È un personaggio Molto forte Però il team è indietro Rispetto al meta E ha ovviamente Alcune lacune Date Per quanto mi riguarda Dal fatto Che è uscito Ed un anniversario global Perché direte Che senso ha Ha senso Perché nessun Anniversario global È mai stato Impattante Come quelli JAP Mai Mai O addirittura Come le unit Di fin anno Le unit di fin anno Sono sempre state O meta breaker O comunque top 3 Del gioco Sempre Minimo E invece Questo Arthur Lo potremmo definire Sicuramente magari Top 5 Top 3 Ma Non così Impattante Perché esattamente Come mai Che ci aspettava Uno stella A un milione Non è stato così È un personaggio Che si deve boostare È più lento È più tank Shot di ulti Questa è un po' La stessa cosa Si deve boostare Ma comunque Non sono danni incredibili Però d'altro canto Ricordiamo che Era In hangar Uno stella E fare uno stella In hangar Senza skin Con un team Con il cibo cipito A 215 mila Fare 300 mila No critica È tanta roba Quindi Diciamo che La delle racune Fa danni Però non è quello Che ci si aspettava Anche parlando Delle animazioni Della ulti Non è quello Che ci si aspettava Sono Delusetto Su alcune cose Ma estremamente Contento per altre Perché sono convinto E questo personaggio Poi nei prossimi mesi Con un team umani Che si Migliorerà Perché lo miglioreranno A mio avviso Esattamente come per Mile E come per Diana Al tempo Diventerà Totalmente broken Che già ora è forte A mio avviso E quindi insomma Vedremo un evolversi Di questo personaggio Però sono Più contento Che deluso Però non al 100% Come lo sono stato Con Mediam King Questo lo devo ammettere Tranquillamente È molto forte Sicuramente L'unità umana È più forte del gioco A mani bassi Secondo che vedi Che fa schifo Per quanto mi riguarda Perché è molto più Molto più completo Come personaggio Però dai Di base Non è un'unità umana Questo è un po' il giudizio Quindi ragazzuoli Io vi ringrazio tantissimo Lasciate un bel like Ci vediamo bene A velo e mezzo Per lo showcase in live E ovviamente Iscrivetevi qua sotto al centro E recuperate tutti gli altri video Mi raccomando 400 like E let's go Boys E ciao a tutti Ragazzuoli